Allora ragazzi, ben ritornati nel mio video dei petardi di capotanno cinesi fanno cagare non li comprate per dio. Allora partiamo innanzitutto dovuto presupposto che farò più video così del genere con petardi schifosi e non. Quindi allora iniziamo il video con compariamo i video della sinale. Quindi allora i più schifosi voi dite ma saranno i mini ciccioli questi qua e invece no, vi sbagliate. Allora adesso, momento, questi qua hanno di grammatura 0,05, guardate un po', aspetta perché guardate qua, perché qua è tutto al contrario, 0,05 per 40 pezzi, beh, 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 ok. Eh, questi ve li metto così. Poi, mini crash sono sempre mini ciccioli, mini ciccioli e poi vi faccio vedere come si presentano perché è ancora sigillatissimo, sigillatissimo, non devo urlare, dio mio ha abbastato il volume. Ehm, eccolo. Pardon. Ok, allora, dio mio qua perdono sempre pezzi, ma che ca... ok. Perdono grammatura. Oh, questi qua, produzione 2015. Allora, ok. Questi qua, passando di potenza, hanno 0,07. Bene, ok. Questi hanno 0,07 di grammi attivi. Ok. E hanno 40 pezzi. Per 40, sì. No, aspetta che dico, 50 pezzi. eh. Infatti, per 50 pezzi. Aspetta, eh. Dove c'è il pollicione, per 50 pezzi. Bene. E questi si chiamano mini crash, che sono sempre mini, della stessa famiglia dei mini ciccioli. Poi, eh, questi qua, passando di potenza, vediamo il auto, ah, che devono ancora sigillatissimi. Eh, scotch e robe dei cinesi, dio. Questi qua hanno 0,15 grammi, qua. E per 20 pezzi. 0,15. Attenzione, i rauto, mamma mia, dio mio, chiamarlo i rauto. Colpa a cuore, ti viene. Ok. Colpa a cuore. Eh, vampiro, new, della irazzi group, pagami, anzi, no, mandami i pacchetti. Questi qua hanno 20 pezzi. E, dio mio, 0,15. E, dio mio, al contrario. 0,15. Qua, i cartellano tutti. Poi non scappano, non ce la fanno più a stare qua dentro. 0,15 per 20 pezzi. Ok. E niente. Pertono troppe robe. E questi qua sono i fratellini minori, maggiori di questa qua. Non lo so che ho detto, ma riga, ha detto Ali, guarda, guardate qua la polvere, c'è la, ancora questo qua esplode, anzi, lo allontano prima che lascio lì, questo qua il cazzillo per aprire le cose. Adesso vi faccio questi qua, hanno la stessa, uguali, sono la stessa cosa, ma solo con questi 30 pezzi, questi 20. Ok, vedi, sono così. Allora. Eh, dio mio. Un po'. Si, uno l'ho messo prima nell'altro video, che ho caricato ora. Ok, quindi andiamo ad analizzare questo qua, lo apro in live direct. Raudo, cinese, tantissimo, Raudo. Ok, quindi con il cazzillo appositamente preso da me, beh, andiamo ad aprirlo. Magari se decide. Eh, dai che cazzo, sto cazzillo qua non fa più il suo lavoro di cazzillo. Aspetta, ragazzi, ragazzi, adesso arriviamo alla fine del video e la conclusione... Cioè, non è che adesso mi ha finito il video, volevo dirvi. Eh, vedi che io non riesco a studiare le cose. Quando arriviamo, adesso riesco a aprire sta cazzo di grips, cacci dei cinesi che mettono. Ok. Sigillatissimo, quindi. Eh, ma quanta polvere da sparoccia ha questo? Ok, quindi. Vediamo un po' semplice. eh, niente. Metto tutto vicino al clipper, l'accendino antipendolo. Ok. E questa qua, dritta, dritta, nel cestino. Dopo la butto nel cestino, non dritta dritta. Aspetta, nel cestino da gaming. Ecco qua, allora, vi apro. E sono ugualissimi, guardate, i raudo. I raudo. Guardate un po' che cioffecca che hanno fatto. Guardate, ah no, aspettate un attimo. Allora, questi raudo qua, allora, hanno la miccia lunghissima. Piena di gesso, ovviamente, gesso sopra. Tappino sotto. Eh, non si vede. Tappino sotto. 0,15. E questi qua, sono praticamente uguali con la mia. Aspetta, perché non si vede bene. Hanno la miccia più corta. Vedi, hanno la miccia più corta. Molto più corta. Tipo, più della metà. Vedi, miccia più corta. Allora, e qual'è? Ok, allora, questo con la miccia più lunga sono i raudo cinesi. Che non dovete assolutamente comprare pagati 1,20 euro. Questi 1,20 euro, 2,50 euro, 1 euro. E i miei ciccioli, ah, 1 euro. Ok. Quindi, questi qua sono leggermente più potenti, ma poco di poco, credete, proprio di 0,1 grammo, un mili, come cavolo, miligrammo di questi qua. Questi qua non ne parliamo che fanno proprio lo scivivo arcano. Cioè, per paragonare questi o questi qua, sono più potenti i miniciciccioli, i miniciciccioli. Questi qua. 0,7 e sono giusti. Tazzir, mi serve. Ok, quindi. No, apriamo i minicrush. Dio mio. Minicrush. Che sono... Si, la scatola è scassata perché hanno messo lo scotch cinesi. Non l'hanno sigillato. Ok, si presentano così. Vedete? E sono tutti belli precisi, precisi, come non guarda. No, ve li faccio vedere. E si presentano così. classicissimi miniciccioli con la miccia. Dio mio. Fine fine. Adesso uno ce lo schiaffo qua. Tanto per x. E uno ce lo schiaffo pure di qua. Ah no, qua non ci stanno, vedi, i miniciccioli. Non ci stanno. Vabbè, comunque questi qua sono verdi e sono sempre con la... con la miccia perché ora con la testina non li fanno più perché sono pericolosi. Cioè, però, una cosa. Voi dite, eh, ma che palla è che hanno tolto la capocchiella e hanno messo muo la miccia. Ma, eh, la miccia, eh, secondo me non è che fa il minore, il botto meno forte, è che con la miccia c'è meno rischio. Perché tu vedi la miccia e lo lanci, non è che sei stupido. Che dici? Aspetta, eh. Poglio questo qua, il Super Vampiro Magna. Inutile buttatelo pure senza... Anzi, tratteli fuoco così. Favamo tutta una cosa. Almeno il tuo scoppio sarà più potente, no? Cosa stavo dicendo? Eh, niente, mi sono perso. Ehm, quel che stavo a dire, vedi, io, niente, parlo di cose. Allora, questo qua, la caratteristica fa proprio schifo, non è nonno. E poi qua, vedi, si strappa, tende a rompersi. Però questi qua hanno il tappino sotto, eh. Non si vede. Sopra hanno il gesso, guarda. Gesso, tappino sotto. Allora, sono più forti questi, i miniciccioli. I miniciccioli sono più, ma molto più forti. Perché questi qua hanno tutto gesso. Gesso, gesso, c'è tappino. Qua c'avano un altro poto di gesso. E solo qua, nel mezzo, hanno una microbo di polvere da sparo che non fa un cavolo di danno, questa qua. Ah, ecco cosa vi stavo dicendo. La miccia non è che toglie, fa meno rumore, ecco, essendo il pettato con la miccia. Eh, non c'entra nulla miccia, ok a poco, capito? Perché vi ricordo che sono più resistenti, fatti bene. Questi qua sono fatti alla cazzo con la miccia. Però c'è meno rischio di perdere un dito, anche se non vi servono tutti i dieci. E che, vabbè, frase inutile. E qua c'hanno tipo, non è neanche cartone, cioè è cartina. Cartina di sigaretta scrausa. E niente, ragazzi, che dire, i pettati cinesi da non comprare assolutamente sono questi qua. Ma i mini ciccioli sono uguali più forti di questo gruppone. E niente, ragazzi, concludo il video. Farò altri video così, altri carichi. Farò dei carichi di capodanno molto più consistenti. Eh, avrà fontane, rope, eh, vabbè, non voglio spoilerare tutto. C'è niente, per il momento. Mettete la campanellina, iscrivetevi, un bel like per supportarmi e per farmi capire se vi piacciono questi video. E niente, ragazzi, concludo il video. Bella prima. Non ci sembra quello da noi.